messaggio di san giuseppe 5 giugno 2019 pace al tuo cuore figlio mio entra nel mio cuore per trovare pace e riposo forza e coraggio dio concede la sua saggezza solo agli umili a un gran valore ai suoi occhi santi coloro che sono in grado di riconoscere il loro nulla davanti alla sua divina maestà e li sono obbedienti dio ha messo il suo sguardo divino su di te e ti ha scelto per parlare della mia gloria del mio amore del mio cuore che gran bene vuole l'umanità e brucia dal santo desiderio della loro salvezza lo so delle tue debolezze e conosco il tuo dolore ma offre ti interamente nelle mani del padre eterno senza riserve confidando nella sua azione divina nella tua vita e nella missione che ti ha affidato dio non abandona i suoi anche se spesso sembra che la sua presenza divina è lontana da te e dai tuoi è più vicina che mai e attento ad ogni richiesta e grido dei vostri cuori fiducia figlio mio fiducia anche se a volte non capisce il piano divino che non puoi vedere i risultati ora a causa di tutto ciò che supporta per l'amore della sua opera divina ma il signore vede sa e agisce in silenzio e ad un certo momento si farà sentire sempre di più ti do un po della mia grazia e della mia forza perché tu prenda cura dei tuoi come hai fatto finora infatti ho anche preso cura dei miei genitori quando vivevano in questo mondo alleviando i loro dolori sofferenza quando non avevano più la forza e le condizioni a causa della loro mancanza di salute di vecchiai così anche te assiste i tuoi e da tutto di se stesso per alleviarli nelle loro pene e sofferenze per confortarli per dare pace e gioia alle loro anime e ai loro cuori e il signore ti innalzerà sempre di più e benedirà tutti i tuoi sforzi progetti buone opere oltre a darti una lunga vita e tutte le grazie che forniranno anche i tuoi bisogni di corpo e anima vieni nel mio cuore figlio mio affinché tu possa risorgere sempre di più nella grazia di dio e tutto il tuo essere possa aspirare solo a voler essere tutto di dio a fare la sua divina volontà in questo mondo affinché il tuo cuore diventi uno in un solo amore con il suo cuore divino affinché tu possa tu possa essere in lui e con lui dio ti ama possono queste parole elevare sempre più la tua anima le cose di sopra al cielo infiamandoti per il desiderio di lasciarti consumare dall'amore divino anche il mio cuore ti ama e veglia su di te aiutandoti a eseguire le ordini del signore in questo mondo essendo il tuo rifugio la tua protezione e il tuo conforto ti metto nel mio cuore e ti porto con me in paradiso per ripristinare la tua forza e darti nuove grazie e doni per ordine del signore ti benedico nel nome del padre del figlio dello spirito santo amén in questo momento mentre ascoltavo san giuseppe dirmi che mi aveva messo nel suo cuore e mi portava in paradiso con lui dalle ferite del suo castissimo cuore sono venuti raggi di luce su di me avvolgendomi cominciai a provare un gran sono e mi estesi immediatamente sulla maca ho ancora sentito la sua voce che mi ha detto quando ti sveglierai tutto sarà passato e sarai rinfrescato ero malato deboli in questi ultimi due giorni quando mi sono svegliato la mattina presto non avevo più niente e mi sentivo più forte e più sano che mai ingraziai dio per una grazia così grande concessa a me per prendere cura di me creatura miserabili e per aver mandato san giuseppe a consolare la mia anima grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille